Ciao e bentornati al tuo canale! Bentornati carissimi amici, allora Sara oggi un grande evento, cominciamo il calendario dell'avvento che ci porterà fino al giorno di Natale dove arriveranno i regali, giusto? Sì. Anche i tuoi? Sì, sto indicando lei. Chi è quella? Hermione Granger. Sicura che è Hermione? Sì. Allora? Fanno vedere il protagonista. Funco, calendario dell'avvento. E Harry Potter proprio grandissimo. 24 personaggi, quindi ogni giorno ne vedremo uno diverso insieme a voi. Abbiamo visto, vedete un attimo, questo è come sarà strutturato, qui ce ne fa vedere almeno 4 in anticipo e vediamo com'è all'interno. Dobbiamo per forza fare così. Secondo me l'1 è Harry Potter. No, non è detto, non è detto. Aspetta, vediamo un attimo. Sono dall'1 al 24, ovviamente spiega un attimino. Sono un po' in fuori. Sono leggermente bombati. Il peso, insomma, non è leggerissimo, sono dei mini funko. Aprile? Vai Sara, apri. Vediamo il numero 1. Addio. No, aspetta, ok. Sacchettino. Sacchettino. Addio, mi sono riempi... Aspetta un attimo. È il microfono che ha creato dei danni. C'è la forbice? Forbice così non rompo l'arte. Però in realtà ha fatto cadere il portaforbice. Perfetto, il portaforbice fa niente. Chi abbiamo trovato? Ah, avevi ragione. Ma quanto è bello. Io non ho il mini funko, non ne ho neanche uno. Ma quanto è bello il mini funko Harry Potter. Questa alpina di... Animali fantastici. È pazzescamente bello. Sono carini. Bello, bello, bello. In più, se vuoi giocare fuori, te lo puoi portare in borsetta. Sì, è piccolino, potete portarlo. Guarda come è fatto bene. O nello zainetto. Si vede la sciarpa, il colore della sciarpa, il simbolo della casata di Grifondoro. Adesso posso vedere? Sì. Bellissimo. Ovviamente la prima puntata durerà, il primo episodio oggi durerà poco. Domani riguarderemo quello trovato oggi e apriremo quello di domani. Faccio pratica a vedere il simbolo. Eh sì, è molto piccolo, molto piccolo. Guardate, io ho le mani grandi, però è molto piccolo come oggetto. Benissimo, siamo partiti. Questo lo poggiamo qua. Il bello è che è al velcro, quindi lo potete chiudere, aprire tutte le volte che volete, senza che a una volta aperto non riesci più a chiuderlo. Esatto, quindi noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale. Primo, che non costa diete, fatelo subito. Mettere un like, condividere, condividete i video se avete voglia, commentate e soprattutto schiacciate la campanella per essere aggiornati. Posso fare una domanda? Aspetta un attimo. Così venite avvisati che c'è il video di domani. Dimmi. Che, secondo me, visto che hanno fatto il pavimento qua, secondo me ci saranno anche degli adobbi per fare, per giocare. Ah, adobbi? Perché c'è dobi? No, tipo albero di Natale. Non lo so, qui ne fanno vedere solamente quattro. Vedremo. Domani è un altro giorno e domani apriremo il numero due. Quindi, come sempre, noi vi stiamo in cima, al prossimo video, ciao! Ciao!